Ben trovati con le notizie dal Consiglio regionale, ultime sedute prima della pausa stiva, approvate alcuni importanti provvedimenti tra cui l'assestamento di bilancio. Prima delle vacanze, come consuetudine, Presidente e Ufficio di Presidenza hanno incontrato i giornalisti per fare il punto sui primi sette mesi di attività legislativa. Per i particolari ci affidiamo però al collega Renato Andreolassi della RAI che per oltre 30 anni ha seguito con equilibrio e autorevolezza l'attività politico-amministrativa della Regione facendola conoscere i cittadini e che oggi ha raggiunto la pensione. A te Renato. Sì, grazie magistrone, ben trovati. Per me è un po' un ritorno a casa. In questi sette mesi l'Assemblea Lombarda si è riunita 23 volte, ha approvato 22 leggi, tre in più del passato. In forte aumento anche gli atti amministrativi, 60 le mozioni discusse, 64 il question time. Fra le leggi più importanti, quella per il contratto da cyberbullismo, la riforma socio-sanitaria e ancora il recupero dei semi-interrati, la rete escursionistica regionale e l'istituzione del fattore famiglia Lombardo. Ridotti ulteriormente i costi della politica, oggi infatti il Pirellone è il Consiglio che costa meno in Italia. Importante anche il contributo di solidarietà alle popolazioni terremotate e le misure sulla trasparenza. In questo senso significativa è l'apertura del Pirellone ai cittadini, non solo lombardi. 160.000 i visitatori del Palazzo, appunto del Parlamento Lombardo. Sentiamo a questo punto i componenti dell'ufficio di presidenza. Grazie al Consiglio regionale, una mozione che è stata approvata nel mese di aprile, si è riaperto il dibattito su un'opera che sarà importantissima per Milano e per la Lombardia, cioè la riapertura dei Navigli. Altro dato importante è che con la variazione di bilancio approvata proprio in questi giorni il Consiglio regionale della Lombardia riuscirà in solidarietà a dare altri 245.000 euro risparmiati dai costi della politica alle popolazioni dell'Italia centrale colpita dal sisma. Una Lombardia che oltre ad essere efficiente, trasparente è anche solidale. Nel bilancio che abbiamo presentato abbiamo visto un numero importante in termini di numero di atti approvati, però appunto io ho detto sostanzialmente che mi rammarico del fatto che non siamo riusciti a discutere in questi primi sette mesi neanche un progetto di legge in iniziativa popolare, quindi con raccolta di firme da parte di migliaia di cittadini, tra cui il più importante ritengo quello sulla cannabis terapeutica che è depositata da più di un anno e che non si è riusciti a discutere, ma soprattutto è un progetto di legge che è atteso da molti malati in Lombardia. C'è un obbligo legislativo, legge regionale, che impone sostanzialmente la messa in discussione dei progetti di legge di iniziativa popolare. In particolare ne sono stati presentati due in questa legislatura, quello per favorire la diffusione della cannabis ad uso terapeutico e quella per il trattamento della volontà legata al testamento biologico. Al di là del fatto che la si può pensare ovviamente diversamente su questi temi, è necessario per l'istituzione cominciare almeno la discussione. Voglio ricordare una legge importantissima, che è la legge sul cyberbullismo, una legge molto importante in un momento così determinante per i nostri giovani. In più un'altra legge che ha dato un grande valore a quello che è il volontariato dei vigili del fuoco, che sono sempre in azione e si dedicano costantemente agli altri. Quest'anno il Consiglio regionale è cresciuto, è cresciuto in questi primi sette mesi sia per il numero di leggi approvate, sia per gli atti di indirizzo e sindacato, sia per il numero di soggetti esterni che abbiamo audito e incontrato in Consiglio. Insieme a questa è cresciuta la capacità di attrarre persone che vengono al Pirellone che diventa davvero sempre di più la casa di tutti i lombardi. 5.000 studenti hanno provato a fare il Consigliere regionale, si sono seduti nei banchi del Consiglio regionale e hanno sperimentato come funziona l'Aula Consigliare, come funziona un'istituzione democratica. E infine abbiamo reso questo palazzo sempre di più sede di eventi, di concerti, di mostre, di iniziative culturali. Non è solo il palazzo dove si svolge l'attività della vita politica, ma è anche un luogo in cui i lombardi si devono poter riconoscere come davvero se fossero a casa loro. Grazie per essere stati con noi, questa era l'ultima notizia del nostro Tg, vi auguriamo soprattutto buone vacanze. Grazie per aver guardato il nostro Tg,